È stata trovata viva nella notte l'anziana 89enne di Marostica, di cui non si avevano più notizie da lunedì mattina. È stata individuata le due tre quarti di notte dai volontari dell'Associazione Carabinieri e recuperata dai vigili del fuoco in mezzo ai rovi, in una zona collinare a circa 500 metri dalla propria abitazione. È stato necessario l'uso della motosega per farsi strada in mezzo al roveto per aprire un varco e raggiungere la donna. L'anziana, una volta recuperata, è stata affidata alle cure del 118 e portata in ospedale. Le ricerche sono scattate con l'attivazione del piano provinciale persone scomparse della prefettura qualche ora prima della mezzanotte di lunedì. Le operazioni sono state coordinate dall'unità di comando locale dei vigili del fuoco, con la presenza di operatori specializzati giunti da Verona e Padova, oltre le squadre di Bassano e Vicenza. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale, i volontari del nucleo cinofilo dell'Associazione Carabinieri, i componenti della protezione civile di Marostica e Schiavon e i radioamatori Scacco Matto.